Ognuno deve fare la propria parte contro il coronavirus per superare questa situazione di emergenza. Noi di SaniModa abbiamo scelto quello che ci riesce meglio, tutelare la vostra salute. Copertura SaniModa Covid-19 è una copertura sanitaria straordinaria, erogata da Uni Salute e Generali, dedicata a tutti i lavoratori iscritti e in regola con i versamenti a SaniModa al 31 marzo 2020. Una polizza senza nessun costo aggiuntivo. SaniModa ha scelto di sostenere questo importante investimento a tutela delle persone colpite da coronavirus. La copertura è valida dal 1 gennaio 2020 e prevede Un'indennità giornaliera per ricovero in istituto di cura a seguito di positività a Covid-19. Una diaria posta ricovero nel caso l'assicurato debba ricorrere a trattamenti di terapia intensiva. E' una diaria per isolamento domiciliare disposta dalle autorità competenti a seguito di positività al virus certificata dal tampone. Vai sul sito www.sanimoda.it, entra nella sezione copertura Covid-19 per accedere all'area riservata e trovare tutte le informazioni circa la procedura da effettuare e la modulistica necessaria. Effettua il login nell'area riservata con le tue credenziali e accedi alle prestazioni del tuo piano sanitario. Clicca su Richiedi un nuovo rimborso e seleziona Recovery e Post-Recovery. Inserisci i tuoi dati e seleziona Ricovero con pernottamento nella tipologia di prestazione eseguita. Poi non dovrai fare altro che allegare la tua cartella clinica completa, verificare che tutti i dati inseriti siano corretti e inviare la tua richiesta. Copertura Sanimoda Covid-19 perché nel momento del bisogno puoi davvero contare su di noi. Puoi sostenere il preziosissimo lavoro della protezione civile in questo periodo d'emergenza? Puoi farlo con una donazione volontaria a questo IBAN.